Ciao a tutti ragazzi qui c'è Dutz e ben ritornati sul mio canale Faccio questa piccola intro perché il video che andrete a vedere è un best off della live di Twitch che ho fatto domenica Era per lo più una live improvvisata e che avevo iniziato senza dire niente a chi giocava con me Come sempre vi chiedo di lasciare un mi piace come dice l'omino qui sotto Ricordatevi che certe volte il telefono non li prende E fidatevi le cose fatte senza dire niente sono le migliori Buona visione No l'avrei preso cavolo No io ho fatto il marker Di nuovo con il cerchino Ma non muore ma sei serio Sei serio Mamma come l'ho preso L'ho visto l'ho visto in diretta Qua servono qualcosa di più rapido perché qua basta che punta e spara e muore L'ho fregato non so a chi Mi metto l'arma dai No Ho fatto Eh ho fatto la tripla così a caso non so manco io come ho sparato Ma dove sono che non li trovo Grandit marker col cerchino mi è piaciuto No muoio no No sono su B ragazzi Ho trovato la rizze che non ha regolato A doppia Ho fatto pure l'ultima Mi rinnole C'è pure l'attacca aereo Nooo Ero in coso ero in serie Mamma mia me la male 4 Mamma che kill Morto L'ultima L'ultima la faccio sempre io Che usa il mirino Quelli là Dele grafici Mi sembrava L'ultimo Throwback Che throwback Fa schifo E io metto precint Perché sembra incinta Ah quella ma questa è la mappa piccolina Abbiamo fatto scelta Chilo Sì ma adesso ne vogliamo altri 50 Ma in mezzo almeno stanno dire ma non mi esce poi Hai provato con le prugne Dai se si inizia subito con una Eh la io Io te l'ho rubata Io sono su Cui Prendiamo Cui Eeeh non possiamo uscire Prendimelo a prendere Cui Non lo avvira ragazzi No 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 Dai era dal palchetto sopra Vieni a prendere Cui Vieni a prendere Cui Vieni a prendere Cui Vieni a prendere Cui Aspetta che ce n'è uno su A Non lo vedi con lo su A Grande Un colpo gli ho dato Vada su A Oh 3 B 3 B E' uno su A L'ho difeso Oh doppia di granata Eh l'atto te l'ho fregato io Se non è la tripla Dai 75 punti e vi prendo L'AV Ve lo regalo Ce n'è un altro Ce n'è un altro No eccolo qua Guarda dove era L'avete messo Già Io ti ho dato un pugno Non è morto Ma niente Ci sono morto Che ero quasi all'attacco Zio cavale Ma se prendiamo B Ma perché questo si è fatto Le giroette Io sono su A Sto facendo avanti e indietro Prendi B Io vado da dietro Ho detto Gli andavo da dietro Tenetelo a B Guardate che doppia No 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 Ok Oh Ma che voglio prendere quella cosa Non so come si chiama Lascia misura Questa cattro attacco 4 la 4 la guardate E chi l'ha fatto l'ultima Dovinate No l'ho fatto io con l'attacco aereo Allora a me mi mancano 265 punti e prendo Lo sprick e sprax Come si chiama Non so come si chiama Quello là che c'ha le palle intorno No di dietro Di dietro Io che mi stavo camperato apposta Pure la doppia Gli ho fatto sprecare la macchinetta Non so chi Oh su A Ragazzi Guardate per su A Le mie Eccolo 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 Oh Come non è morto questo Ce n'è un altro Marco non gridare Che perdi la voce Che me ne frega Meglio perderla a code Che prende la mente La prendi nel culo Mamma mia Ormai siamo automatici Su queste cose Ma seriamente hanno quitato Questa l'ho fregata Io di dietro Io sto sparando Io questa dietro Ma che ne so Se ce l'abbiamo dietro Io ho sparato avanti Perché avanti Ho fatti Guarda l'ho preso Aereo Unico E' appena partita Ma avete visto Quanto ha fatto Luca No ha fatto Lui hai fatto 23 Io ho fatto 29 11 Però guarda che kill Guarda che kill L'ultima kill Mi ha contato Guarda Guarda che kill Li abbiamo rotti Vai Guarda che kill Guarda che Knlove Guarda che kill Guarda che ride